Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video e siamo tornati su questo gioco Questo gioco Che mi fa ridere perché cioè non ha senso Robin, ma che bello che è Robin Sembra un nano Si è un nano, prova Bene, siamo Molto bene, mi ha spiaccicato veramente con quella sottiletta fritta Buona Vai Robin, questa volta, stasera Stasera ti vedo molto in forma Mi ricordo qualcuno Ah, si può scendere? Una trappola Come faccio adesso? Come faccio adesso? Ah no Aspetta, come faccio Ok 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 Pap, 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 pap e vabbè come cazzo ne va? che è bene il video di questa morla? quanto manca sta cazzo di pin ma come fanno? ma come? l'ho uccisa io? che ragazzi sto cazzo di gioco mi ha già fatto ma come? da capo! ah no non l'ho capito ma poco ha detto molto prima vai dimmi che... allora non è ma non è quello di prima perchè sono morto poi non l'ho capito qui i tubi sono 10 point ok lo cazzo ok e il video di oggi c'è il campo c'è da casa pan 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 robin robin come stai? no basta cazzo di livello dai ma non vale ma come cazzo si va? dai moriamo? no no non voglio morire dai sono di usciti da questo capito buono a prenderlo ma guarda come nuota ormai pochino ma non sale guardate come nuota vedrai che giochi di merda ragazzo non farei vedere che nuota il corpo bene questo cazzo di pace dovrà venire proprio qui che tui coglioni tutto da capo ma se tu sei tipo un mondo eroide allora amico mio qua non ci stiamo proprio per niente come dovrei fare sto pe... come faccio a me a prenderlo con lì ma porca... non è niente ma da cazzi ma fa un culo però è un culo eh ti hai zitto allora come faccio ad essere uno spieghi vabbè mi chiede che sicuro come nuota fa troppo ridere cioè probabilmente non nuota robin perché non puoi... ragazzi adesso si nuota così e quando lo sapevano il corpish il corpish il corpish il corpish è troppo carino arriva arriva... eh ragazzi dimmi che non torna indietro prego che bello che è sembra nemo ma sembra un po' nemo nemo che è purtroppo ma quanti cazzo di pesce nemo vabbè che è un pesce dovrebbe uccidermi che cazzo no ma non posso neanche spiaccicare ma non posso neanche spiaccicare lo spiace di merda che mi faccio la... alla griglia lo fa no cazzo no cazzo no cazzo no cazzo no cazzo no perchè c'è un libro di natale qui sotto? due altre due 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 non ho capito per tre due forse scendi per poco ok basta binato fuoco che non sai cosa fanno ma dove sono passato ma come cazzo dovrei fare niente ragazzi allora se vi è piaciuto un bel gioco nel suo iscrivetevi al canale ci vediamo il prossimo episodio